La Libia ha un nuovo governo, è una buona notizia? Teoricamente sì, è una buona notizia nel momento in cui il governo che si sta formando sarà approvato dai due parlamenti che si contendono ormai da quasi un anno e mezzo il potere nel Paese e soprattutto se riuscisse un giorno ad avere reale autorità, sovranità sul terreno, sull'intera nazione che al momento non esiste più. L'approvazione da parte del Parlamento di Tobruk non sembra scontata, visto che due suoi rappresentanti nel Consiglio di Presidenza non hanno firmato l'accordo. Cosa succederà ora? Succederà come è possibile che si stanno litigando, fra virgolette, posti ministeriali, quindi fette di influenza soprattutto legate ai proventi del petrolio che sono la principale fonte legata al PIL nazionale nel momento in cui trovassero un accordo, credo che anche chi finora non ha firmato, cioè due su nove di fatto alla fine arriveranno alla firma. Dobbiamo calcolare che sono stati appunto nominati 32 ministri, anche questo ci dà l'idea di quali giochi di potere, anche quali tentativi di appropriarsi di risorse ci sono al momento alle spalle nella negoziazione di questo governo. Il ruolo dell'inviato ONU Martin Kobler è stato determinante? Ha avuto un ruolo maggiore rispetto al suo predecessore, cioè Bernardino Leon, ha avuto un'influenza maggiore non tanto legata alla sua figura che è comunque poco rilevante in un contesto come questo, ma dietro c'è stata una sponsorizzazione più forte da parte delle potenze occidentali, che vuol dire che a differenza del recente passato Francia, Gran Bretagna, anche l'Italia, ma in parte anche gli Stati Uniti hanno premuto maggiormente affinché si arrivasse alla costituzione di un governo d'unità nazionale. Il nuovo governo di Fayez al-Sarrai ha davanti a sé due grandi sfide, Migranti e Isis. Ce la farà? Per quanto riguarda la sfida dei migranti, finora i due governi contrapposti, ma soprattutto quello di Tripoli, cioè quello che non era riconosciuto internazionalmente, utilizzavano i migranti come arma per premere nei confronti dell'Occidente e quindi dell'Europa affinché intervenisse in qualche maniera. Molto dipenderà dalla volontà che avrà questo governo, cioè se penserà che le sue istanze siano state accolte o meno e quindi i migranti entreranno o meno nel gioco che svolge nei confronti dell'Occidente. Per quanto riguarda lo Stato islamico non è in grado nessun governo d'unità nazionale in questo momento in Libia di affrontare da sé lo Stato islamico, ha bisogno necessariamente di un intervento esterno, ancora una volta occidentale, ma la stessa formazione del governo d'unità nazionale a cui facevamo riferimento in precedenza è stata pensata dagli occidentali proprio per poter poi legittimare un intervento nel paese. Chi guiderà questo intervento internazionale? Difficile da dire in questo momento, sembrerebbe che Francia e che a Bretagna siano le nazioni maggiormente interessate, l'Italia si dovrebbe ritagliare un suo ruolo, un po' come è successo nel 2011, forse un ruolo maggiore dell'epoca, ma stiamo parlando di ipotesi ovviamente in questa fase, gli Stati Uniti invece dovrebbero rimanere un po' come all'epoca, come nel 2011 in disparte per fungere da supporto. Quali sono gli interessi italiani in Libia? Sono essenzialmente interessi di tipo energetico, petrolifero, l'ENI è ovviamente una forza sostanziale all'interno del paese e nel 2011 c'era l'impressione non totalmente astratta che Francia e Gran Bretagna volessero sostituirsi all'Italia, quale interlocutore privilegiato di un futuro regime che poi non si è mai materializzato. L'Italia vorrebbe evitare, come ha detto in questa situazione, di trovarsi nella stessa posizione di allora. Qualcuno sostiene che un intervento armato internazionale faccia il gioco del califo, è così? Potrebbe essere così nel momento in cui un intervento esterno fosse massiccio, fosse composto da non solo aviazione, non solo bombardamenti, ma una forza di intervento internazionale sul terreno che si andasse ad impantanare contro lo Stato Islamico. Questo non succederà perché non c'è questo nelle previsioni, ci sarà un intervento sì dal cielo, ma a supporto di milizie locali, di milizie presenti sul terreno, si parla ad esempio dell'esercito nazionale, quello guidato da Eftar che dovrebbe fungere da testa di ponte. Nel caso specifico con l'aiuto dell'aviazione dovrebbe essere in grado di sconfiggere i miliziani dello Stato Islamico che in questo momento sono collocabili tra le 5 e le 6 mila unità, non di più. Con 400 mila barili al giorno la Libia è il secondo produttore di petrolio del continente africano, c'è da aspettarsi una battaglia cruenta da parte dei jihadisti dell'Isis. Diciamo che i miliziani dello Stato Islamico sono abituati a combattere in maniera feroce per ciò a cui tengono e ciò a cui puntano, nel caso specifico il petrolio libico per loro è difficilmente maneggiabile, a differenza ad esempio di quello siriano perché quello libico è estratto su un territorio completamente pianeggiante che è davanti al mare, quindi per esportarlo ci vuole necessariamente l'accordo diretto con una nazione che lo vada ad importare e allo stesso tempo è più facile colpire i miliziani su un territorio totalmente pianeggiante.